... Serie 1, allora piccola corsia, 4 per l'Atelica Pinerolo e poi a Chissone alla corsia 5 a fianco a lei per il Custorino due maglie azzurri Vai Ari! Vai Ari! Vai Ari Anna! Vai Ari via adesso! Vai Ari Anna! Appena terminata questa prima serie 400 allievi andremo con la fermazione dei 100 piani allievi sono già pronti gli atleti, vediamo questo finale con Arianna Imperial, Sandro Calvesi davanti per ora lei è fuori dai giochi il titolo va a Aurora Picco che vince anche la gara durante l'Imperial e terzo posto per Veronica Piranha avanti alla tetra fuori gara 1-0-3 1-0-3 Grazie 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 Grazie